Ci sarò come ospite dove regalerò un qualcosa della mia arte, quindi preghiamo a tutti gli amici che sono in ascolto di venire e di fare beneficenza. Tredicesima edizione per l'Arcobaleno Napoletano, iniziativa a sostegno della Fondazione Melanoma del dottor Paolo Ascerto e della prevenzione oncologica. La serata di gala, condotta da Anna Capasso e Sabino Zaba, si terrà lunedì 2 dicembre al Teatro San Nazaro. Quest'edizione è dedicata alla memoria del giornalista Franco Di Mare. È un qualcosa che interessa spesso i giovani, è strano che nonostante tutte le campagne di informazione che si ormai fanno da anni, la tintarella sia più importante invece del preservare la propria pelle dal rischio di tumori cutanei, il melanoma in particolare. Gli ospiti di quest'anno, la madrina della serata sarà Valentina Stella, Rosa Miranda, Cosimo Alberti, Lino Barbieri e tanti tanti altri ospiti a sorpresa, quindi per conoscere chi sono i vincitori di quest'anno vi aspettiamo il 2 dicembre ore 20 presso il Teatro San Nazaro di Napoli. L'ingresso è ad inviti e si può chiedere di partecipare con un'email all'indirizzo arcobaleno-napoletano-chiocciolalibero.it, l'iniziativa al patrocinio del Comune di Napoli. Sono iniziative che toccano il territorio e cercano di intercettare quelle che sono le problematiche e le esigenze che vengono dai cittadini che spesso probabilmente sfuggono da quella che è la filiera istituzionale. Noi con entusiasmo abbiamo patrocinato ancora una volta questo importante evento perché riteniamo che essere presente sul territorio, far sapere che le istituzioni ci stanno e poi nel caso specifico quest'anno si fa riferimento anche a un'eccellenza napoletana Franco di Mare, quindi penso che sia un motivo in più per essere presente ma soprattutto per far sentire il nostro afflato, la nostra vicinanza a questa importante iniziativa.